Anche oggi, care ragazze, sono più grosso di voi, quindi dovete ascoltarmi, ok? Voglio che sia ben chiaro come voi dobbiate imparare il muscle up, lo faccio per voi, mi raccomando. Quindi vediamo come imparare il muscle up per le ragazze che partono da zero, che non hanno mai provato a fare il muscle up perché pensano di non poterlo fare, pensano che non sono in grado, tutti i complessi femminili che hanno sempre, però magari sanno già macinare le trazioni, quindi questo non è un tutorial di trazioni, quello lì l'ho già fatto, andate nella playlist femminile e guardate lì tutti gli esercizi sulle ragazze. Oggi ci concentriamo sul muscle up, quindi alla sbarra, vi faccio vedere tanti esercizi che non avrete mai visto, che sono rivoluzionari, che ve lo fanno imparare, però dovete ascoltarmi fino alla fine e guardare questo video. Quindi il primo esercizio che vi consiglio sempre è il pull up con oscillazione esplosivo, lo so che sono ripetitivo ragazzi, però quello è importantissimo, ok? È fondamentale, quindi lo andiamo a fare per imparare bene il movimento, anche se lo so che siete presuntuose, avete la presunzione, no? Io sono una femmina potente, lo faccio senza loop band, no, no, ascoltami Clara, Clara, Simona, ascoltatemi, fatelo prima con la loop band, fidate, ascoltate lo zio, fidate, perché almeno impariamo bene il movimento, non andiamo a creare degli errori che poi, perché dovete capire che il miglioramento non avviene solo in salita, ma va anche in regressione, se imparate un movimento sbagliato e lo ripetete, state allenando un movimento sbagliato, quindi state diventando forti a fare l'errore, mi raccomando, sui gesti motori tecnici funziona così, purtroppo, quindi leghiamo una loop band, mettiamo un piede dentro e esplosivo al petto, lo intendo in questa maniera che adesso vi farò vedere, quindi da sotto la sbarra faccio un passo dietro, afferro la sbarra, la afferro bene, lascio le gambe da terra, in modo tale che il mio corpo oscillerà avanti, ma non mi do lo slancio, il corpo rimane fermo, non ci penso, penso solamente a trazionare fortissimo la sbarra, quando ritorno indietro dall'oscillazione, quindi, in questo modo, ok? Questo è il pull up esplosivo al petto, cercherò inoltre di arrivare più alto che posso possibile, questi consigli valgono anche per i maschi, sia ben chiaro, più in alto possibile, presa non troppo larga, perché altrimenti rischierò di fare questo, e mi concentro sulla velocità di movimento, quando miglioro, tolgo questo qua, ok? L'importante è anche essere fluidi, quindi non voglio vedere robe di questo tipo, robe di questo tipo sono assolutamente da guarire con il lavoro su loop band, ad esempio, avete visto che mi sono incantato qua e poi su, oppure trazione, il corpo si sganghera tutto e vado su, li risolvete con un allenamento con intensità minore, quindi con la loop band, ok? Mi raccomando che è fondamentale. Vediamo un altro esercizio molto utile per imparare bene, anzi, più che per imparare, per potenziare la transizione. Sarà un dip profondo sulla sbarra, quindi cosa andrò a fare? Purtroppo non posso farvelo vedere qua perché è rotto e ho paura di ammazzarmi. Vuoi provare? Ma lì, nel senso... Sì, qua perché era più comodo, perché è più basso, vuoi provare? Perfetto, prima lo spiego, anzi, vai che lo spiego mentre tu lo esegui. Allora... del dip, cioè come se avessimo fatto tutto il massolap, perfetto, quindi ci mettiamo uno sgabello e saliamo sopra. Da così faremo un dip, scendi giù profondo, fino ad arrivare, scendi, 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 nella fase... Scendi più... Eole, torna su. Però così è troppo. Troppo giù. Sì c'è da troppo. Una via di mezzo, ok? Dobbiamo cercare di arrivare che il gomito sta più o meno a 45 gradi così puntato. Ok. E da lì ritorniamo su. Questa è un'estensione di tricipite. Questo è un lavoro molto forte di tricipite. È il lavoro... Guarda, vi faccio vedere un attimo. È il lavoro per proprio andare a potenziare. Quando noi siamo qua, abbiamo trazionato... Fermali, fermali. Abbiamo trazionato qua. Ferma. Dobbiamo fare questo. È proprio quel lavoro lì. La difficoltà maggiore sta sempre nel passare oltre la sbarra. Molte persone riescono anche ad arrivare in altezza qua, però poi sono lontane. Non hanno questo movimento che può sembrare banale, visto che dall'esterno dice, vabbè, Ma come fai a non averlo? È facile. No, non è facile, non è scontato. Bisogna tenerne da conto. C'è un bravo coach che ne tiene da conto. Quindi se volete le informazioni del coaching online, le trovate sotto in descrizione. Compilate il form, cioè il form da compilare, tutte le informazioni vostre, lo inviate a me, io lo riceverò e valuterò. Ok? Se siete idonei o meno al servizio. Quindi qualcosa di personalizzato è sempre la chiave, ragazzi. Se vi allenate da soli o da sole, dovete contestualizzare a voi tutti i consigli che vi do. Quindi guardatevi i contenuti, prendete appunti, prendete punto per punto, e vi create da soli un qualcosa di, ovviamente, ben fatto e difficile. E ve lo dico perché si è poco oggettivi con se stessi, però potete provare, per poi constatare che non potete farlo, perché non si può fare. Ok? Dai scimmia, facciamo vedere l'esercizio fatto bene. Vai, vai in campo, vai in scena. Quindi, dip profondo, più che posso, e torno su. Se inizialmente non riesco a scendere oltre un tot, perché non ce la faccio, cado giù, mi fermo, arrivo al mio punto limite, fin dove riesco poi a risalire. Vai, vai, segui, segui. Fin dove riesco poi a risalire. Quindi lo faccio lentamente, ovviamente, ragazzi, non è un qualcosa da fare veloce. Discendo piano. Cerca di andare più giù. Cerca di andare più giù, perché così sembrava un dip. Ole, sposti il peso avanti, su. Fallo ancora di più. Su. Ok, allora, faccio vedere bene anch'io, perché non mi piaceva tanto, non scendevi eccessivamente, ma perché qua, ragazzi, è molto scomodo, c'è la sbarra, che è molto spessa. Mi faccio cadosso. Ma, non lo so, no, credo perché sia spessa la sbarra. Ah, sì, quello sì, mi dà un po' di noia. Prova a farlo io, però devo andare qua sopra, ho paura di spaccare il microfono. Vuoi darlo a me? No, me lo metto sulle gambe. Spero che mi state sentendo, è sulle gambe il microfono. Quindi. Ragazzi, è una merda. questo parco. Quindi, da così, scendo, prendi da di lato. Di lato, bene? Ok. Arrivo qua. Su. E concludo il dip. Adesso non lo sto facendo perché ho il microfono sulla gamba, quindi scendo un po' così e torno su. Sono di una scomodità assurda perché è gigantesco. Io ero così tipo... Ma non ci sono scuse, scimmia, queste sono scuse. Va bene. Ok, il muscle up si può fare comunque. Tipo qua, quando faccio, devo staccare la mano durante la transizione perché non ruota. Sono scuse. Tutte scuse. No, ho spiegato come ho risolto il problema. E ho risolto il problema, non so scuse queste. Quindi, ragazzi, questo è per quanto riguarda l'esecuzione della transizione. Ok? Molto importante allenarla, soprattutto per chi ha un deficit su quello. si può anche zavorrare, ovviamente. Quindi potete farlo con zavorra. Ok? Molto utile. Vediamo adesso sugli appunti. Cos'altro ho scritto? Ah, perfetto, perfetto. Sì, adesso vediamo un'altra cosa che mi piace molto far allenare, soprattutto sui principianti proprio base base, è l'eccentrica di muscle up agli anelli. Perché lo faccio fare agli anelli e non alla sbarra? Siccome l'obiettivo è farlo alla sbarra. Perché la sbarra me lo sbagliate tutti. È molto più difficile la sbarra. Non è allenante, a mio avviso non è molto allenante, la traiettoria l'andate a cambiare se non la conoscete bene. Ma va a succedere che non avete la forza di fare neanche la transizione eccentrica quindi da così cadete proprio malamente. Agli anelli, invece, possiamo innanzitutto regolarli e metterli ad un'altezza tale che possiamo anche assisterci con i piedi a terra. Poco, sceglieremo noi quanto assisterci, ovviamente. Dobbiamo scendere quanto più lentamente possibile. Quindi facciamo il dip eccentrico. Scendiamo lentamente e arriviamo totalmente giù. Se vogliamo fare la risalita la facciamo con i piedi appoggiati a terra. Quindi, faccio vedere. Anzi, fallo vedere tu, scibia. Vai. Eccentrica lenta di massolapa agli anelli, scendi dal pente giù e poi risali con i piedi appoggiati. Quindi, per ovviamente chi deve imparare ancora a fare forza nel movimento eccentrico. Vai, vai. Lenta l'eccentrica, ti incavi bene con la mano in falsa presa per ole e scendi giù fino a braccia tesa. Torna su con i piedi in assistenza. Ole, perfetto. Quanto assisterci con i piedi starà a noi, ovviamente. Io vi consiglio di calibrare l'anello affinché vi assista fin tanto che non siete a metà della transizione. Quindi lo calibrate in modo tale che terrete i piedi a terra fin tanto che non è arrivata questa fase e da qua si staccano e salite su. Così c'è proprio quel mezzo della transizione dove non vi assisterà che sarà la fase finale della transizione che è più facile e la fase più difficile è l'inizio e fare questo. Qua, pum, smette di assisterci su se riusciamo a calibrarli altrimenti potremmo sempre tenere i piedi a terra e allenate lo stesso. In una seconda fase potremmo farlo completo con la loop band quindi leghiamo una loop ben dalla sbarra mettiamo il sedere sotto e lo eseguiamo. In una fase ancora più avanzata potremmo fare l'eccentrica come ci ha fatto vedere adesso la scimmia con zavorra quindi potremmo attaccarci dei chili dei chili veri e propri scendere lentamente però non facciamo la risalita in questo caso perché staremmo facendo un muscle up in salita e zavorrato capite che è più complesso. Dopo di ciò se avete fatto tutti questi esercizi e vi siete ben potenziati quindi avete fatto anche i pull up con oscillazione esplosivi alla sbarra con zavorra e avete migliorato la zavorra potrete iniziare a fare le prove di muscle up fatto e finito con la loop band quindi prima con la loop band sempre per lo stesso discorso di non sporcare troppo il movimento quando avete fatto un buon volume sentite che è facilissimo avete scalato anche la loop band lo provate libero cioè vi tenete nell'allenamento perché dovete avere una scheda non è che lo fate a caso queste regole non valgono se fate a caso le cose non funzionerà niente funziona a caso ok va tutto pianificato nella scheda si perlomeno io faccio così sui miei ragazzi inizio a tenere nella prima fase dell'allenamento una serie dove ci sono le prove quindi una serie o anche due ogni tanto se è più avanzato di prova di massimo muscle up perché le prime volte magari concluderete il primo muscle up anche con leggero keep va bene se c'è un leggero keep in quello libero fatto e finito senza loop band perché iniziate a sbloccare il movimento non vi verrà mai perfetto al primo corpo a meno che non avete allenato per tutta la vita le trazioni siete fortissimi e non l'avete mai provato ma se state facendo un percorso non lo chiuderete pulito anzi neanche un avanzato che non l'ha mai fatto lo chiuderà pulito ok quindi teniamo due serie massimo per non fare troppo volume su un movimento che ancora non è perfetto dove lo tentiamo ci sarà il lunedì magari mi viene e il mercoledì non mi viene e vabbè pazienza ragazzi funziona così è un movimento molto tecnico quindi non solo dobbiamo avere la forza ma anche la testa quel giorno essere concentrati e non avere troppo stress accumulato ok e ci sarà ovviamente una dosatura di volume su tutta la scheda che ci permetta di sostenerlo quello lì sta in una prima fase di prove poi negli esercizi andrò a continuare a potenziare con tutto quello che abbiamo visto oggi in base ai nostri punti deboli in base alla nostra situazione ma soprattutto i pull up esplosivi sono fondamentali da mantenere anche il lavoro sui pull up classici ma quello lo do per scontato che in una programmazione indirizzata con quell'obiettivo ci siano ok è fondamentale quindi ci teniamo queste prove libere un lavoro tecnico con la loop band e man mano sbloccheremo il muscle up una volta sbloccato inizieremo a fare volume sul muscle up vero e proprio pulito quindi magari lavorandolo a singole però ripetute tante volte quindi un 5x1 un 6x1 un 10x1 in base al nostro livello sempre con margine potremmo fare lavori a tempo come gli emom su singola del muscle up così da pulirla bene iniziare a fare le doppie iniziare a fare un lavoro dove aumentiamo gradualmente le ripetizioni e inizieremo magari ad inserire quando saremo molto più forti dei mav1 quindi dei mav1 sul muscle up zavorrato prima lo andremo a zavorrare ma dovremmo essere già avanzati ovviamente dovremmo avere già pulito e fatto bene il muscle up e allora iniziamo a zavorrarlo con un chilo con due chili con tre chili e man mano aumenteremo arriveremo a un punto che lo zavorriamo con 20 chili potremmo fare dei mav2 ok? oppure mav1 più due pull up esplosivi al petto quindi faccio muscle up zavorrato più due esplosivi al petto potremmo giocarci in questa maniera per costruire sempre più diciamo comfort e sempre più forza in questo gesto tecnico va bene? penso di avervi spiegato tutto avete del lavoro da fare quindi ora mi raccomando Vincenza Vincenza Simona andate ok? ciao ciao canti il ritmo ti spezza il piatto ma ogni stai dietro ti ha superato le bracci di molde ti schiaccia la fronte lui ma infatti mi strada lui è mister come se